Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Ospite in studio della trasmissione è sempre carta bianca. Condotta da Bianca Berlinguer su Rete4, il celebre cantante di Cellino San Marco si è lasciato andare ad alcune riflessioni sul tema. Stanno facendo discutere le recenti affermazioni rilasciate da Albano Carrisi sul tema del Pride di Roma. Ospite in studio della trasmissione è sempre carta bianca. Condotta da Bianca Berlinguer su Rete4, il celebre cantante di Cellino San Marco si è lasciato andare ad alcune riflessioni sul tema che non potevano non sollevare subito un polverone di polemiche sul web. Le sue dichiarazioni hanno infatti acceso un acceso dibattito tra i telespettatori e gli utenti dei social, rendendo il tema oggetto di accese discussioni e confronti su diverse piattaforme. Ma cosa avrà mai affermato di tanto terribile Albano? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie